ciao amici di italiato games oggi giochiamo insieme ad un grande ritorno di una serie konami nata negli anni 80 tantissimi anni fa contra e questo è il nuovo nuovo episodio operation galuga allora abbiamo settato tutto andiamo a giocare facciamo difficoltà normale anche se ho letto che è bello tosto difficile no facile no facciamo normale dai speriamo non fare troppe figuracce allora lenz bin o bill riser dai bill riser pronti sì questa è la versione pc steam archipelago di galuga esperimento no non sono desideri da esprimere non sono stelle cadenti insomma ai 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 c'è messina luogging in dc coordinati et a 5 minuti patching signal now let's review the mission details as you know a terrorist group called red we've confirmed reports they've set up shop on the main island of galuga following the meteor event earlier this year the federation immediately dispatched the gx army as they were in the vicinity they seem to be making headway until three days ago when we lost contact you're kidding gen 10 is the strongest unit in the federation army no way some fringe upstarts to come out while it's still unconfirmed we should assume the worst speaking of which our science division has some troubling intel of their own the federation's interstellar satellite an anomalia gravitazionale an anomalia gravitazionale emitting gravity waves strong enough to circle the planet their source coordinates align squarely on the galuga archipelago this gives us reason to suspect the red falcon are developing gravity weapons lucia gravity weapons the federate that's right lance we can't risk destructive power of that magnitude falling into the wrong hands my weapons division at henriksen industries confirms those reading things are consistent with the components of a gravity bomb even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts climate disturbances a bit bill lance given the situation i think your primary objective is to engage red falcon ground forces if at all possible locate the gx army and report back there's a red falcon stronghold not far from your drop infiltrate the base and apprehend our remote hideout missing super soldiers and hell of a friend this arrivati eccoci time to introduce ourselves hell yeah brother take a moment to practice movement jumping and shooting doyle tells me all contras can jump a second time in midair or dash horizontally simply incredible you can aim with more precision by holding down aim lock one moment you 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 well well you 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 we've accessed the weapon delivery network and we'll be sending frequent supply drops shoot a weapon pod to release its cargo experiment with a variety of weapon types don't forget forget Sì. What the hell? Nessie chopperi prendono l'energia, sta subito! That's Strike One. It's all three by my count. You hold a primary and secondary weapon. Swap between them strategically. Nooo. You'll pay for that. Porca vacca ragazzi, quanto è difficile questo gioco. Old school davvero. Ah, nell'elecoa mi posso proprio nascondere. ösdia! Ciao. Grazie. No, I die. No, I die. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Big mistake. 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 Prima un mostrone E vai No cos'è? Ancora E vai Oh oh Eh no perché no No E vai Che gioco impegnativo ragazzi 8 minuti mi sono sembrati un'ora Va bene Non era un missio Materia organica Andiamo un po' Questa Ok andiamo Secondo livello Ah scegliamo l'altro dai Aspetta però Ah c'è posto posto Andiamo Andiamo L'altro alter ego Oh forte Ok andiamo Ok andiamo Ok andiamo Ah Ah gostei Uh Oh 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 Ah Don't shoot not one of them, not anymore. Okay explain Il nome è Bradley, sono solo un mercato, sai? Signo per un'azienda semplice, ma questi ragazzi sono terroristi, l'altro ragazzi sono brainwashed o qualcosa, sono come zombiei! Non sei tu? Credo che sono diverso, mi hanno chiesto per alcuni esperimenti, per quello che mi sono ora, ora! Quindi come, puoi me riuscire a questa isla? Por favor? Se tu ti esporti, potresti potresti ai nostri Non c'è nessuno Non capisci Alguien mi lasciò! Chiarano a me uccidere! Devono andare fuori Grazie per la pompa! Devono andare fuori Vabbè, buongiorno Bradley Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Si può continuare? Niente. Continua, vediamo. No, si ricomincia di livello. Eh, ragazzi, è tostissimo questo gioco. Va bene, mi fermo qui. Spero vi siate fatti un'idea su Contra Operation Galuga. È un gioco tosto, impegnativo davvero. Ciao ragazzi, al prossimo video.